bella a tutti ragazzi prima di andare a vedere il video voglio ricordarvi il mio codice creator xyuderone grazie mille per il vostro supporto attenzione ogni 14 giorni scade quindi non dimenticatevi di controllare se ce l'avete e ovviamente mandatemi una storia su instagram uno screen quello che volete io vi reposterò ma adesso video buongiorno ragazzi a tutti quelli che ci sono direi di aspettare un attimo perché tanto gli arriveranno le feed ragazzi ci siamo c'è già un po di gente siamo in diretta realmente dal negozio di pc hunter di desio siamo con già pantomato perché siamo qui ragazzi perché siamo qui siamo qua a montare il tuo nuovo super computer è tuo ma prima lo devi montare lo porti via solo se funziona le parti importanti come sapete sono la scheda madre quindi l'aorus x570 ultra al cui interno è stato già posizionato il processore ryzen 9 5900 x una bomba una bomba totale perché sono 12 core 24 thread una roba esagerata ragazzi allora 12 core non poi abbiamo un ssd da 2 tera di quelli super veloci nvmi sempre via orus quindi un sacco di giochi a quanti giochi giochi in questo momento aspetta che ci penso fortuna allora abbiamo 32 giga da 4400 megahertz cioè non veloci di più illuminate tutte rgb che ve lo dico a fare le lasciamo sui dare l'rgb a persona nel senso ci sarà esatto devo avere tutto colorato la tua postazione sarà ancora più illuminata da domani c'è una regola non scritta che sappiamo allora se tu hai tante rgb nel tuo computer il tuo computer è più potente sì 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 è una regola non scritta sì assolutamente quando eravamo giovani che mettevi gli adesivi sulla macchina è la stessa cosa la macchina con le fiamme è adesiva e più valore ma arriviamo arriviamo all'oggetto del desiderio di tanti gamer videogiocatori io ti dico che qua in negozio ne avevamo una una e per chi la tenevamo questa scheda sono io per te esattamente grazie e per me allora si tratta della 3080 waterforce anche questo è il top del top lo si intuirà dal nome extreme vuol dire che ha rispetto a una 3080 tra virgolette normale le frequenze bustate quindi ha prestazioni molto superiori rispetto a una 3080 normale e in più ha anche applicato un waterblock quindi una piastra al cui interno passa il liquido come abbiamo già predisposto per tenerla il più fredda possibile e poter streammare giocare anche per giornate intere 20 giorni nel senso esatto ovviamente non fatelo mai per 20 giorni perché la salute prima di tutto mi raccomando e allora si procede che adesso andiamo ad assemblare le parti principali ti chiederò di fare le cose più difficili e io guarderò ma se non va assolutamente bene io guardo te poi ma come io guardo spacco tutto raga il tuo computer lo monti tu allora lo capisco io monto questo posso? ok lo monto qua beh bravo bravo spara fuori acquamente ah proprio verso l'esterno verso la telecamera ok è più figo no giochi acquatici che computer allora adesso montiamo tutto quanto nel computer poi ci concentriamo un attimo per i tubi perché ovviamente sono la parte più delicata e poi ci verrà ad aiutare il nostro esperto degli impianti a liquido perché è una roba che Luigi esatto sì mi sono tornato quando ero ragazzino che montavo le RAM sui computer da 30 mesi perfetto spinga fino in fondo ok fatto fatto ragazzi vado grazie ciao ho finito? sì ne devi montare solo ne deve montare solo altre tre altre tre non va bene ora piano eh delicatamente ora dobbiamo metterla qua così sono un pochettino oh guardalo al primo colpo è una cosa incredibile è andato ragazzi grazie Crivi per la donazione che meraviglia è davvero è davvero un maestro questo mi spiacerebbe lanciarlo non lo appoggerei no con questo infatti più che altro perché è di metallo e rischiamo di farci male poi mi ha chiamato questo è un casino veramente si infilza non fatelo mai a casa non lanciate a casa il metallo non traete di settore ascoltate il metallo ma non lanciate sono dovuti di aiuto ma cosa stai facendo signori la mente è un po' terrifici hunter possiamo dirlo se non lo vorrei abbracciare ma non riesco in questo momento ti do un pugno intanto Peppino come stai? benissimo stavo di là stavo che faccio alle risate aspetti non va dritto così facci lei vai lì pure scusami è arrivato in un momento in un momento delicato è arrivato aspetti un attimo Peppino che qua non gira allora eccolo è andato è andato adesso ma cos'è che mi avete fatto qua Peppino? aeroplano questo va in modo più ma come dicevo ragazzi bremm bremm ok allora può cominciare da dove comincio? da questo qua si riesce ma la allora un momento ragazzi che qua ho le mani che sono delle salsicce allora facciamo così lasciamolo qui e non degeneriamo per favore allora sto sbavando su tutta la mascherina bene allora un secondo facciamo così ciao ok è stato un piacere ci fermi minchia ma quanti camici sono dentro qua ringrazio esimio ma ragazzi guarda quanta roba c'è dentro qua e tutti questi camici sono miei anche questi ve li lascio a voi non mi servono tanto voi li usate no ma noi giriamo le scatole due perché tanto ok no ancora no stiamo ancora vedendo un pochettino manca l'ultimo cavo che non riesco a trovare eccolo qua ragazzi voi di qua non lo potete vedere ma c'è un ma facciamoli vedere facciamoli vedere tutti i cavi che stanno dietro a un computer questa roba qua ragazzi non la trovate su fare in diretta un assemblaggio veramente di un computer una macchina del genere no no non si può farlo lo trovate solo qui ragazzi non è possibile farlo si facci pure oh grazie allora maestro prenda pure la 3080 mamma mia la 3080 ragazzi è arrivato quel momento è arrivato il momento signori sembra la valigetta 24 ore cioè prendeva in giro così con questa e e flexi un pochettino esatto apriamo l'apra ma è bellissima di più di più signori la mettiamo qui tra l'altro è anche è anche l'unica versione che ha in omaggio prego prego l'apro ancora l'apro ancora cioè è sotto qua eh sì no aspetta tutto finto non c'è nulla attenzione oh oh scemo oh ma cos'è questa cosa oh no vabbè no vabbè questo ce l'ha solo chi ha la sua scheda video cioè questo è solo del sommo ma che meraviglia è questa ma c'è il super siringone no fatti cosa serve eh fai lo schieno come il siringone aspetti un attimo il super badge ragazzi questo stiamo parlando di qualcosa che io non è anche forse è fuori di moellone questo è bellissimo lo mettiamo qua ma facciamo facciamo vedere come la prendo la prenda ma provi con le mani provo da qui dal pezzo di piccolo metallo ma che crea per le 30 patatine grazie no vabbè ragazzi no a parte che è pesantissima qua va va che roba e questo c'è sopra il water block per far passare il liquido facciamola vedere un po' più da vicino ce l'hai tu eh vai vai signori tac è qualcosa di esageratamente tutto il negozio riflesso perché c'è la siringa perché ti fa vedere quello che è la pasta termica utilizzata per raffreddare per raffreddare sì le componenti e se tu vuoi cambiarla fra un anno noi te la apriamo e ti mettiamo la stessa pasta termica per fare io non toccherò mai il mio computer voi toccherete il mio computer io non toccherò mai però e poi questo qui perché ma quello è bellissimo ed è una versione extreme e quindi questo è il loro l'aroma scott ma va che va solo per la fascia top di gamma ragazzi questo poi ve lo faccio vedere bene perché è bellissimo ma è meraviglioso non ha l'autofocus ma lo farò dopo facciamo delle foto anche con quello facciamo esatto è troppo figa credo che 10.000 spettatori ti manderebbero vado a c***o aspetta aspetta lo prendo così opla opla sì ok spinga fino in fondo è entrata vorrei alzare corriandoli patatine patatine a gogò lascio pure lascio è entrata patatine a gogò let's go signori sta venendo fuori una bestia mi sento Michael Schumacher quando nei tempi d'oro vinceva con la Ferrari nel senso io rimpiamo oh signori non perde non perde aspetta deve fare tutto il giro a c***o non potrebbe perdere ragazzi di onde non sappiamo siamo ancora al sicuro ho scritto una volta non è partito ok è andato guarda l'acqua oh guarda 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 che arriva guarda guarda che sale aspetta che manca ancora un po' sta riempendo i costi riempendo vengo si perché se no si brucia la punta vai di sotto vai di sotto ah beh si è ovvio sei molto lontano devi rizzoommare assolutamente vai vai zoomagli perfetto vedi questo tubo si deve riempire come questo adesso c'è dentro aria vedi certo hai visto anche tu è un terzo mese grazie da sopra sopra a sinistra guarda la scheda video sotto mi è emozionato no vabbè no vabbè mi è emozionato no ragazzi cioè qua sarebbe veramente da vedere dopo vi faccio una foto ci sono dei colori RGB che girano con il liquido che la tiene fredda in poche parole ragazzi stiamo parlando di qualcosa che non esiste proprio porca Eva che meraviglia lì si vede le SSD cioè il serbatoio ha un diametro che è così ragazzi sembra piccolo ma è enorme questa è la special 50 è la vespa special 50 guardate con 181 polini si esatto è una roba esagerata è una roba esagerata che scheda video è che scheda video è una 3080 extreme è una 3080 extreme questa guardate sotto guarda guarda l'aria vedi l'aria si vedi che si vedono queste pole guarda queste sono un pole d'aria ed è giusto che ci siano adesso si si dopo vanno via si tolgono dopo un po' si tolgono dopo un po' guardate che meraviglia sotto ragazzi GeForce 3080 extreme water force extreme water force ma l'ho fatto metri grazie questo ti fa capire che ha tenuto a stagna perchè Luigi ha messo ha fatto un ottimo lavoro in più hai dei raccordi con guarnizione veramente di livello veramente di livello sono importantissimi sono una cosa del genere ragazzi sono importantissimi ciao Luigi ragazzi è un maestro è il maestro con il maestro con l'altro maestro sono veramente il top di gamma per qualsiasi computer che ogni buono streamer voglia voglia avere ragazzi io non so cosa dire meraviglioso grazie a te grazie li ho conosciuti per caso due anni fa perchè erano il primo risultato di ricerca su google si dice google si dice e gli ho detto li ho chiamati gli ho detto chi sono passa qui grazie catapow e avevamo fatto il computer che è ancora a casa nel senso me l'avevano fatto loro che dobbiamo sistemare anche quello qua lo guardo quando possiamo è tutto da rifare è tutto da rifare è tutto da rifare è tutto da rifare è pronta ragazzi non scappate rilassatevi fra poco ci rivediamo con altre cose da vedere ho visto e quanto va forte su Fortnite tu PC di studio non lo so speriamo che sia dobbiamo fare andare fortissimo dobbiamo dobbiamo ci siamo Japan ci siamo ci siamo Peppino allora ragazzi a fra poco grazie a tutti grazie a tutti